stretta sorveglianza la mia casa trasformata in una prigione e ospite francesco wolf a parlare di onore caro francesco quale personaggio che ha interpretato leghi di più a quest'idea dell'onore prima ho nominato col test e lo spettacolo si chiamava l'eredità lo leggo all'onore però con un senso negativo nel senso quel personaggio lì era proprio la rappresentazione di uno che non riesce a prendersi delle responsabilità che non riesce a fare quella migrazione dal dall'essere giovane adolescente diciamo all'essere adulto perché come dicevo all'inizio l'onore non essere non è semplicemente una cosa piacevole può anche essere spiacevole